Se ti trovi momentaneamente in difficoltà con il pagamento dell'affitto per la tua casa, il Comune interviene con un bando per concedere oltre un milione di euro di contributi, con un massimo di 12.000 euro per nucleo familiare e fino all'esaurimento del fondo. Si chiama morosità incolpevole, verifica di avere i requisiti per partecipare. Tutte le informazioni si trovano sul sito del Comune di Napoli. Grazie a tutti.